Mister, cercavi una risposta importante oggi dai tuoi ragazzi, direi che l'hai trovata perché è una vittoria a frutto di una prestazione importante ma anche di un atteggiamento giusto col quale la squadra ha affrontato questa partita. Penso che in generale è un grande successo per Elas salvarsi dieci giornate dalla fine, parla di un grandissimo gruppo di ragazzi che penso in questo momento abbiamo rispetto all'anno scorso perso sei titolari che sono arrivati nuovi, qualcuno ha dato tanto, qualcuno molto poco e invece si sono superati, sono cresciuti, migliorati, salvarci così per me è fantastico veramente. Poi sappiamo tutti che c'è stato un piccolo callo di prestazione, noi come la squadra non ce la possiamo permettere, se giochiamo 10% in meno che magari per gli altri va bene, per noi no. E oggi era importante questa risposta, questo tipo di gioco, occasioni create, poi alla fine abbiamo sofferto un po' perché veramente siamo un po' all'osso, anche Barra ha chiesto cambio, Tamezza non al meglio, un po' di problematiche che non ci hanno permesso magari fare anche gli ultimi 20 minuti dominando, però alla fine penso veramente grandi tutti, bene, molto bene. Come hai lavorato durante le due settimane di sosta? Forse mi viene da pensare principalmente sulla testa dei giocatori, mancavano anche i nazionali, quindi non era semplicissimo, però li hai rimotivati direi al massimo. No, io sapevo che li ho spremuti, ho sfruttati, in tutti i modi, perché io so che loro non vanno oltre, tornano a essere quelli che erano due anni fa, cioè così i calci che a volte a livello proprio di attenzione, cognitivo, questo pesa, che questo chiede sempre il massimo e non è facile mantenere, cioè che se loro abbassano un po' l'attenzione non ci siamo. In questa settimana che su consigli di un grande psicologo, siamo dati duro, 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 non comprendere niente, andare forte, e i ragazzi hanno risposto alla grande. Venendo, o meglio dire, tornando alla partita, il fatto che non abbiate subito gol ed è solo la seconda volta nel girone di ritorno, è un altro segnale positivo rispetto a quello che dicevi tu, attenzione, concentrazione, fame, cattiveria? No, perché altre partite abbiamo concesso molto di meno e abbiamo preso dei gol, oggi abbiamo concesso, no, però veramente l'ovato veniva delle partite di nazionale, Magnani praticamente non è riuscito ad allenarsi, che ultimi due giorni è tratto bene, Ciaccherini abbiamo visto che ha fatto fatica, ci mancano i giocatori che potevano darci ancora un po' di sicurezza là, per oggi ho visto di nuovo Silvestri molto acceso, molto convinto che è quello che è mancato l'ultimo mese, anche lui, dobbiamo essere così, mancano nove partite, abbiamo tanta voglia, tanta grinta, deve essere questo il nostro obiettivo, giocare a questi livelli perché poi ti diverti. A nove partite, come dicevi tu, dal termine del campionato con la salvezza ormai acquisita virtualmente, ma anche insomma nei numeri, nei grandi numeri del Verona, quale può essere l'obiettivo da qui a fine campionato? Sicuramente migliorare il gioco, tanti aspetti, mi piacerebbe migliorare i punti perché penso che oggi, questo anno abbiamo fatto, io sono sempre critico, non abbiamo fatto tante cose bene a livello di mercato, delle cose, cioè che abbiamo, che tanti giocatori hanno dato poco, questa squadra aveva bisogno di anche altri, invece non li abbiamo praticamente mai avuto per infortuni, per varie ragioni, però vorrei migliorare, cioè vorrei anche quelli che hanno giocato di meno ci danno qualcosina in più, oggi ho visto anche Bessa entrare molto bene, Disturra voglio di più, c'è gente anche fuori che ci deve dare ancora di più e voglio che squadra cresce, che siamo arrivati, qualche giocatore è arrivato a un buon livello ma si è fermato e deve crescere ancora e ci sono altri che ci mantengono un livello molto alto e devono continuare così. Fra le note positive di oggi, parlando di singoli, Salsedo che è entrato con l'atteggiamento giusto, che ha fatto molto bene, ma anche Lasagna che ha trovato il gol al termine di una partita molto dispendiosa nella quale non si è mai risparmiato. No, l'ha fatto una bellissima partita perché poteva fare gol anche al primo tempo, ha fatto un grande tiro, c'è una generosità assoluta, cioè io quando ho giocatori così per me, anche se sbaglia le occasioni, ma abbiamo visto l'ultimo minuto che correva a Samoa, tornava, poi è attaccato di nuovo a profondità, ma stiamo parlando di ragazzi che veramente, ve lo dico, vanno oltre, hanno un spirito immenso, di Eddie ha avuto una flessione come tutti i giovani, però già da un po' di tempo lo vedo molto più determinato, molto più maturo, allenamenti li affronta con un altro spirito e oggi mi sembra 20 minuti di gran bel livello, li ha messo veramente in difficoltà, peccato per il pallo che ha preso, poteva fare di più, però voglio tanto da lui queste nuove partite, ci può dare una grande mano.